musica 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 come che c'è Matt ma di più è piccolo non ci stiamo che è il nostro spettacolo e poi dove lo mettiamo il pubblico? eeeh è dura neanche molto dura senti dai facciamolo bello spettacolo qui dai qui? per chi? per chi lo facciamo Matt? ma c'è? ma chi vuoi che ci venga a vedere non basta eccolo aspetta sei pronto Matt? per lui spegniti Candela spegniti spegniti Candela l'attore non è che un pavone si deve fare per un'ora sulla scena finchè qualcuno cala il sipario sulla sua maschera tecnica quante ne sai Matt? non è un po' oh ma si si Grazie a tutti. Grazie a tutti.